Per gli etruschi il mondo era pervaso da segni divini che dovevano essere decodificati. Tutti i fenomeni della natura erano quindi catalogati nei libri sacri per essere poi riconosciuti e interpretati. In alternativa, le divinità potevano essere interrogate direttamente mediante la cleromancia, arte divinatoria basata su sortes, cioè barrette di metallo o ciottoli scritti contenenti messaggi la cui estrazione da un contenitore si credeva guidata dal volere divino. Ad Arezzo doveva essere presente un famoso santuario di Apollo oracolare, come ricordato dal commediografo latino Plauto. La notizia è confermata dal rinvenimento di due sortes datate al III-II secolo a.C. La maggior parte delle sortes a noi giunte presenta il nome del dedicante e qualche volta della divinità. Si tratta forse di semplici riproduzioni votive donate come ringraziamento per un risponso favorevole. Un ex voto doveva essere il disco di piombo dal cimitero di Fraternita, che reca inciso il termine shuri, ritenuto un appellativo del dio Manth, con il probabile significato di il nero, a indicare il mondo infero che questa divinità dominava. Già dalla seconda metà del VI secolo a.C., Manth, molto presente nella vita religiosa degli etruschi, fu assimilato al greco Apollo, con il quale condivideva la connotazione oracolare e in particolare la cleromanzia. Dalle immediate vicinanze della chiesa di Santa Croce, dove altri resti indiziano la probabile ubicazione del santuario, proviene invece una vera e propria source, Un ciottolo che presenta in ogni faccia un'iscrizione eccisa, cioè fatta abbassando la superficie attorno alle lettere. Le lettere a rilievo erano il simbolo della parola divina presente fatalmente sul ciottolo già prima della sua lavorazione. Su una faccia si legge Aplu Putes, l'etruschizzazione del greco Apollo Pizio, cioè la divinità oracolante per eccellenza, e nell'altra faccia è il risponso che impone l'offerta, Tur in etrusco, ad un genio Farthan. Questo genio è forse il medesimo Aplu o un'altra entità divina attualmente non meglio definibile.